abbiamo fatto anche il grace time come no abbiamo fatto il grace time e questa cosa del incasi ha fatto ovviamente sorridere anche il nostro meraviglioso ospite Luca Madonia eccolo qua ciao buongiorno a tutti buongiorno Luca eccolo qua aspetta che sistemiamo un po' di volume allora come va intanto ben arrivato grazie ma che bello vedi stare con voi amici 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 del resto Luca ci porta a dire che siamo tutti ben calmi ebbene sì siamo tutti ben calmi perché dice questa cosa perché c'è chi mi scrive i testi che mi ha detto di così perché questo è il titolo i nostri autori te l'hanno detto i nostri 36 autori multiformi autori mi hanno detto proprio di accogliere Luca così perché ho visto il titolo del tuo ultimo album anzi vedremo anche il un po' Matteo ci farà vedere anche la grafica della copertina 40 anni di musica 40 anni di musica per cui pensavo che fare un disco fosse la cosa migliore certo un disco dove ho messo dentro tre inediti e poi i brani della mia vita che mi hanno permesso di attraversare tante stagioni musicali che mi ricordano cose belle, importanti dai De Novo fino ai giorni nostri però tutto riletti in chiave acustica più adulta, più cerebrale sono andato per sottrazione perché dici più adulta? perché sai da ragazzino c'è la smania di fare casino, di sonora, elettronica, batteria invece qui volevo che venisse fuori il canto, la voce, le parole per cui sono andato per sottrazione e mi sono coverizzato quante tracce? quattordici tracce quindi hai scelto tra, insomma, un bel numero le quattordici che preferivi o che secondo te preferisce la gente? che hanno avuto un'importanza particolare ma per te o per il pubblico? per me, per me dai anche quando hanno un'importanza per il pubblico in automatico hanno anche importanza per te perché hanno avuto successo? oppure ci sono altri parametri di valutazione? io considero anche a livello emotivo certe canzoni che hanno segnato dei momenti storici importanti c'è tipo il primo singolo dopo l'avventura di De Novo dopo quando mi sono rimesso solo come per te in discussione questa è la copertina questa è la copertina al disco poi vi dico perché si chiama così adesso ce la racconti la raccontiamo anche perché ci sono quelli della radio che non ci vedono e quindi dopo la descriviamo no, no, ma facciamogli finire il discorso perché mi interessa no, ad esempio, ti dicevo solo come per te è stato il primo singolo dopo De Novo la mia vita milanese io ho passato tre dischi, tre inverni a Milano a registrare quando ancora si doveva emigrare per fare questo mestiere adesso un disco te lo fa in bagno per fortuna per fortuna mi è cambiato tutto assolutamente però mi piaceva l'idea appunto di rileggere queste canzoni quindi questo è un motivo, diciamo, personale ecco, non hai scelto 14 tracce perché sono quelle più ruffiane che piacciono al pubblico no, no, no quindi non è un fatto commerciale non è peraltro nel mio... esatto, questo lo posso confermare anche io conoscendo bene Luca che ha un rapporto meraviglioso col pubblico però... mi faceva piacere sottolinearlo però, no? perché sai, a volte uno pensa che il cantante quando deve fare la cosa deve scegliere sempre il lato commerciale magari a volte succede a volte succede quando sei anche magari costretto a fortuna o comunque indotto anche dalla casa discografica sì, quello sì, no, devo dire che io adesso sono con Musica Lavica un'etichetta indipendente di Denis Marino Denis Marino che saluto, mi ha chiamato ieri ecco, hai visto? ciao Denis che ha mai aiutato a realizzare abbiamo prodotto insieme questo disco suoniamo insieme da tanti anni lo saluto anch'io e oramai c'è un'intesa, un'affinità per cui sai, ci guardiamo negli occhi dico questa canzone ci vorrebbe quella chitarrina, quel sonino tacate ed è stato veramente, è nato tutto così perché l'ho chiamato in questo modo strano? perché l'hai chiamato così? ecco, dai, facciamo rivedere la copertina calmi perché ha una doppia valenza uno riferito al mondo, alla società di oggi come siamo assolutamente sterili ma direi, viviamo in un'epoca di follia generalizzata, non si ascolta più nessuno devo dirti che questo è quello che arriva subito dal titolo, uno dice è un invito perché tutto sommato se ci guardiamo intorno di questo invito abbiamo bisogno ci si parla su e poi l'altra valenza l'altra valenza è riferita alla musica perché come vi dicevo ho sottratto i suoni ho messo meno roba perché a volte gli arrangiamenti invecchiano le canzoni no e mi sono reso conto di questo dovendo festeggiare 40 anni di questa vita meravigliosa perché faccio un mestiere che mi piace e questo credo che sia la cosa più bella è una grande fortuna è una grande fortuna è una grande fortuna partito da ragazzino nei garage hai detto benissimo peraltro anche perché quando qualcuno ascolta una canzone un po' tutti noi ascoltiamo una canzone e magari è un po' datata la prima cosa che diciamo cos'è però vedi i suoni sono quelli degli anni 80 i suoni sono quelli degli anni 90 allora svuotandola dai suoni in automatico non le dai più una connotazione temporale si può ridare giustizia a un brano esatto e ho riscoperto delle canzoni tipo ma che idea di De Novo che a risentire quell'arrangiamento forse era un po' frivoletto c'era quella trombettina però quel tempo andava bene quel tempo andava bene sicuramente qui l'ho riletta in chiave poi ripeto questa operazione di sottrazione di suoni mi ha intrigato tantissimo perché alla fine veramente molti brani sono due chitarre una piccola percussione minima e la voce però c'è stato tutto il lavoro così tutto il lavoro fatto bene l'altro discorso di Siamo Tutti Ben Calmi è riferito appunto alla musica cioè tutta una musica pacata ho voluto fare un disco io ancora parlo di disco perché mi vedo il vinile ma l'hai fatto il vinile l'hai fatto il vinile il vinile ancora no ma è il progetto è programmato senti invece la copertina la figura ce la vuoi raccontare la figura è una statua di mia sorella esatto e lì si chiude un po' il cerchio perché lei aveva disegnato la copertina di Persuasione che è stato forse l'album che io amo più di De Novo io dico un po' come il revolver stai i Beatles Persuasione c'erano veramente tante tante belle canzoni era stato il disco che ci ha dato la spinta ci ha fatto capire che sarebbe stato il nostro mestiere questa è una posizione yoga si chiama il sonno del bambino ed è una posizione che invita appunto alla calma alla meditazione devo dire che anche guardandola semplicemente trasmette proprio questo trasmette calma e per cui mi sembrava perfetta non mi basta non mi basta ne sentiamo una non mi basta ce lo vuoi raccontare prima oppure ditemi voi raccontacelo un po' e poi non mi basta è stato il primo singolo di quest'album è un po' il male di vivere con la consapevolezza però che siamo artefici del nostro destino assolutamente tutto dipende da noi e noi siamo talmente abili che spesso riusciamo a rovinare tutto assolutamente siamo bravissimi in questo siamo campioni abbiamo questo talento non mi basta Luca Madonia dalla Catalla con Tuttu Cori con Tuttu Cori